il dito di schuman si dice che il grande schuman un giorno inventò una specie di apparecchio capace di proporzionare maggior flessibilità ed indipendenza al dito anulare tale aggezzo però secondo si dice gli procurò un difetto permanente che da allora lo impedì di diventare un virtuoso del pianoforte come lo era la sua famosa moglie Clara Vick in un modo nicciano Antonin Artaud cercò un teatro purificatore possedente una forza purificatrice che avrebbe rimesso l'umanità a contatto con le primordiali forze vitali dell'io e del cosmo arte come piaga lacerante martellante lebra corrosiva sifilide purulenta che sanguina ed esaurisce schuman nicce artaud tutti artisti tutti pazienti dell'istituzione psichiatrica per tutta la sua vita schuman fu tormentato da voci e suoni che brulicavano nella sua testa anzi gli edemoni che lo hanno ispirato con brillanti composizioni amici oscuri e spettrali che gli sussurravano consigli strani e irraggiungibili schuman poteva parlargli senza di aiuto e confessargli i suoi desideri e segreti addirittura li nominò battezzandoli florestano ed eusebio diceva di essere perseguitato dalla nota la e quindi credete in un determinato momento che ricoverarsi in un manicomio avrebbe potuto restituirgli la ragione povero schuman solo e definitivamente isolato incapace di comporre o addirittura di scrivere ai suoi amici gradualmente e inesorabilmente languisce immerso nel mare di terapie e rimedi alla fine la clinica lo catturò nella sua terribile rete il dottore che lo curava sapeva quanto fosse necessario anzi quasi un dovere eroico farlo tornare nel mondo dei sani dei giusti e degli integri di quelli che non ascoltano mai voci se non quelle della ragione questa signora benevola che tutto pacifica e ordina la ragione moralizzante è lì per comandare e organizzare il suo piccolo mondo di mediocrità dove né niente né nessuno si muove nella danza insana del genio artistico quale ragione la stessa e sicuramente annienta l'artista a favore del divertimento stolto e mercantile della sempre ben educata società secondo schuman una tempesta ruggiva nella sua testa così come il fuoco che consumava nice e gli degenerava il cervello facendo che gridasse spaventosamente nice punta ed avverte l'audacia di eraclito che più forte degli altri filosofi del suo tempo esclamò non essere ingannato vedo solo il divenire così il tragico artista art odiano emancipato dallo spirito giudiziario e dalla morale risentita degli uomini di metafisica scienza e religioni distruttive rifà la cosmogonia eracritea dove il mondo è casualità molteplicità estetica del divenire non mancano né la morale né la giustizia l'armonia eterna si ottiene attraverso il gioco degli opposti forze che si scontrano in un movimento infinito luogo di puro flusso e differenza eraclito comerto respinge le lezzi si sa che quando alcuni concittadini richiesero di comporre le lezzi della città eraclito si ritirò con disprezzo e andò al tempio a giocare alle ossa con i bambini quando seppe che soffriva di idropisia disprezzò i dottori che non lo capivano e si seppellì in un cumulo di sterco in una stalla di buoi allo stesso modo arto ha come principio il teatro che è pura forza e intensità fuoco cosmico che non si esaurisce ma si espande in un frenetico rituale di musica luce e poesia libero da tutte le catene della moralità reattiva l'artista in un savorfare creativo si allontana dal mondo cerca di fuggire e di essere al sicuro da coloro che lo mettono in imbarazzo disserto il mio destino spaventoso si mise da molto tempo oltre la ragione umana al di fuori dalla vita bisogna stare al margine fuori dalla società e dalla politica giacché questi hanno come prima condizione per la loro esistenza l'irreprensibilità della morale e degli occhi della ragione controllatrice e persecutoria i grandi artisti fanno tremare spaventano sembrano trascinare con sé i pilastri della norma e strappare le bende della giustizia sbrindellare le loro vesti spudoratamente a chi interessano le verità queste vivono a spese delle comodità che offrono tutti i poteri stabiliti cercano la tranquillità delle certezze sciocche che non provocano mai nessun imbarazzo alla vita sguazzano e si infangano nella dolce e suave ignoranza che riscatta gli uomini che rischiano la pazzia bisogna stare però attenti le ombre e i mostri di goia forse ritornano nella pelle di un artista questo essere strano che non si sa mai per dove va e quali sentieri percorre di certo non quelli dove circolano i medici i preti e i politici non fu van gogh dissertò che si suicidò lo suicidarono i medici e la società lui come schumann nietzsche e tanti altri fu catturato piegato e trascinato fino alla clinica per ragione e l'ordine sociale colludono per incarcerare tutti quelli che in qualche modo provocano timore e stranezza un altro non meno famoso psichiatra lo svizzero manfred bloiler si riferì ai suoi pazienti schizofrenici come strani intriganti inconcepibili misteriosi e paurosi dagli aggettivi sembrano rimandarci ancora una volta a d'artò e al teatro della crudeltà 1932 molto più che a malati e manicomi psichiatrici asylum in una società ben strutturata è imprescindibile delimitare luoghi e definire ruoli si deve valutare l'artista sapere quello che intende non è possibile lasciarlo così libero sviandosi sempre dalla verità indubitabile e dogmatica sembrano terribili gli artisti bisogna nasconderli imprigionarli e ricoverarli negli ospizi affinché siano curati dai mali della duplicità e della trasgressione come raggiungerli raggiungerli stanno sempre altrove sono spiriti devianti si spiegano e traboccano pieni di vigore e forza come placare l'incendio della creazione diagnosi molte diagnosi capaci di dar conto della poesia vogliamo solo aiutarla avrebbero detto i medici la ricoveremo alla salom le solleveremo le tentazioni kreppelin il grande psichiatra tedesco nel definire la demenzia precox più tardi denominata schizofrenia si riferisce alla malattia come atrofia delle emozioni discorso confuso e vizio della volontà ma alla fine ci rimane la domanda sarebbero tutti artisti se è così il filo della moira che ci ha portato fin qui sembra troppo tenue troppo oscillante da permettere che arrivassimo a qualsiasi conclusione anche perché tocca alla ragione criticare analizzare concludere mettiamoci dunque dalla parte dell'arte e degli artisti dovendo scegliere tra la clinica e i suoi pazzi tra il peso delle verità istituite e la leggerezza del balletto degli insani definitivamente io scelgo il dito di schumann e l'orecchio di van gogh rio de janeiro 3 luglio 2018 clausia flores di reyes